in diretta su Radio Fantasy Radio Fantasy la radio a pezzi allora abbiamo i consigli per i vostri bambini con Giovannino vai con la base vai sigla sapete che insomma chi ci ascolta è anche papà di famiglia come noi allora sentiamo un po' Giovannino buonasera buonasera a tutti mi rivolgo a tutti coloro che si appresano per il primo maggio a compiere un'importante riflessione sull'importanza dei lavoratori e di loro diritti insomma adesso sono pesanti oggi la mia categoria è l'unica certificata a mantenere tali diritti perché contribuisce ad evitare i pericoli casalinghi di quelle filiali piccole mini vaganti che si comportano da cattivoni oh yes vai tranquillo Max buongiorno Max sveglia 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 ok ci sei vorrei dunque stimolare il rispetto per la mia categoria lavorativa sì ricordando che per me il primo maggio è anche la giornata del tato impegnato giustamente no primo maggio ecco dunque i punti chiave del nostro manifesto sindacale eccole il tato ha e segue regole di teontologia professionale ai massimi livelli con i fanciulli sopportabili cioè quelli non ancora nati e mai esistenti quindi sta perdendo la voce diciamo diversamente adotta tecnica di disarticolazione fisica e psicologica per autotutelare la propria aspettativa di vita oziosa nell'utilizzo delle playstation e di visione di zozzi divosi benissimo ok il tato ha il senso del dovere rispetto la tutela dell'assistito genitore maschile che concederà al medesimo con Jusprima e Noctis l'anticipo di prestazione sessuale tramite compiacente moglie, sorella, cugina, miglior amica e da fini dalla terza di reggiseno in su oggi facciamo qualche sconto con tanto di avviso affisso ai mini spaccapalle e garanzia di un religioso silenzio ok benissimo quindi concludiamo e per concludere oh ecco il consiglio il tato ha senso d'essere perché tenutario di cultura educativa, civica e disciplinante i soggetti che figureranno da adulti come cardine sociale delle nuove forze di sbraco ops volevo dire lavoro va bene va bene ma che purtroppo ora per classificazione lineiana sono ancora nell'età infantile classificati come carabinoni grazie 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 molto politico questo discorso primo maggio grazie Giovannino radio a pezzi pezzi su radio fantasy